Consigliere Savoco, ieri sera la nascita di un nuovo gruppo e soprattutto una nuova geografia politica in Consiglio Comunale. Voi rimanete comunque nell'alveo della maggioranza, però con una differenza sostanziale, cioè che vi smarcate rispetto a quello che era il vostro gruppo originario. Io ero indipendente, quindi non mi sono smarcata. Io mi sono unita con altri due consiglieri che già da tempo avevamo un'unità di intenti, quindi ci siamo sempre ritrovati vicini nel modo di pensare. La dichiarazione è stata fatta, noi siamo rimasti in maggioranza perché continuiamo a seguire il programma del Sindaco e siamo coscienti di questo. Anche i nostri elettori ci hanno votato per il programma del Sindaco, quindi nessuna intenzione, nessun secondo fine, ma è stato dichiarato che rimaniamo in maggioranza tutti e tre. A proposito di elettori e di persone che vivono fuori dalla politica, ma questa frammentazione secondo voi non viene vista come una non unità? Può essere vista come una non unità, ma in teoria non è così. Già la frammentazione era iniziata da tempo, io sono uscita da Città Viva in seguito a delle problematiche che c'erano state e appunto mi ero dichiarata indipendente. L'unità di intenti rimane sempre la stessa, quindi ho tanti gruppi, ho due gruppi, non credo che il problema possa cambiare. Ieri sera è stato detto più volte che si è perso il civismo. Io non sono d'accordo con questa affermazione che è stata fatta, siamo tutti gruppi civici e come all'inizio era stato deciso in campagna elettorale. Francesco Cardillo insiste invece a questo punto sul ritorno ai partiti. Voi invece puntate su quello che è appunto il fenomeno del civismo che invece sembra avere più forze. Io non so cosa abbia detto il consigliere Cardillo, ieri in consiglio non ha detto questo, lui si è preso tempo per pensare, già aveva detto mi sembra a Natale che doveva pensare. Le sue decisioni non lo so, lui è stato sempre vicino, è stato coerente con il suo pensiero politico, non so quale saranno le sue intenzioni, non posso entrare in merito. Come non entro in merito al gruppo di Giarreviva perché io non facevo parte di questo gruppo e quindi qualsiasi motivazione che è scaturita alla frammentazione del gruppo non posso dire nulla su questo perché non era il mio gruppo. Un'ultima cosa, come l'ha presa il sindaco? Io non ho parlato col sindaco, non ho la più pallida idea di come l'abbia presa il sindaco, io posso dire soltanto che noi ieri sera abbiamo votato degli emendamenti, abbiamo votato secondo coscienza in quanto gli emendamenti avevano parere favorevole, tutte e due pareri favorevoli, quindi non ci siamo sentiti di andare contro a questa votazione. In ogni caso non abbiamo voluto bloccare assolutamente il bilancio, erano degli emendamenti che per noi già discussi in commissione, secondo noi dovevano essere aggiunti al piano triennale e quindi abbiamo votato favorevolmente per questo, non per bloccare il bilancio. Grazie. Grazie. Grazie.